Cosa? Che accidente! Cosa c'è? È solo andato in crash. Buongiorno, Bobby. Buongiorno, Dude. Che giornata stupenda per essere vivi, non vi pare? Problemo? Non so che ha perso. È il vecchio codice di Matrix. Un piccolo esperimento modale. Per binary. Mi serve un caffè. Caffè, sì. Grande. Offro io. Guarda, non è per leccarti il culo, ma il mio primo impatto con la trilogia è stato uno... shock. Il paradosso tra libero arbitrio e destino. Siamo solo algoritmi che fanno il loro lavoro o possiamo sfuggire alla nostra programmazione? Geniale, inserito all'interno del contesto del gioco. Il tuo gioco mi ha succhiato la vita. Già. Bocciato in seconda media. Potevi rovinarmi. Già me l'hai detto. Eppure eccoci qua. Mi dica, signor Anderson, è libero arbitrio o destino? Ah, sì. Guarda chi c'è. Golossissima Melf. Che occhiataccia. Vabbè, scusa. Sono un geek. Cresciuto dalle macchine. Meglio se te ne vai. No, dai. Prometto. Contegno. Contegno. Sì. Ci hai mai parlato? Senti qui. Tu hai fatto tanto per me. Lasciali fare questo per te. Giù. No, fermo. Scusami. Grazie. Scusami. Ciao. Lo so che è una cosa un po' estemporanea. Giù Gallagher. Lavoro per una compagnia di giochi, la Deus Machina. Ciao, Giù, sono Tiffany. Tiffany? Wow. Chi se l'aspettava? A mamma piaceva Audrey Hepburn. Giù. Oh, questo è il mio grandissimo amico Thomas Anderson. Oltre che famoso è una gran bella persona ed è considerato il più grande game designer della nostra generazione. Io non c'entro, mi dispiace. Aspetta, papà. Giù, basta andiamo. Ciao, Thomas. Tutti mi chiamano Tiff. Ciao. Ci conosciamo. Veniamo entrambi qui. Posso mangiarlo, ma... Ehi, cerchi di farti mia mamma o cosa? Brandon. Che lo fai a me lo assaggiare? Amore? Che c'è? È tardi. Lui e mio marito Chad. Piacere. Salve. Amore, Kelly ha l'allenamento. Giusto. Scusate. Dai, ragazzi, andiamo. Scusate.